Questo festival che ci ha abituato, devo dire, negli ultimi anni a presenze di grande valore, di grande celebrità e continuiamo su questa linea, il cinema italiano protagonista, iniziamo con Sergio Castellitto, poi avremo la presenza di due star al femminile, Jasmine Trinca e Valentina Lodovini e poi il grandissimo finale con Luca Guadagnino che torna a Pesaro da star conclamata qual è in questi giorni, proietteremo in piazza il suo ultimo film Challengers, di Ficare Picone l'avevamo già detto, Franco Maresco e poi piano piano sveleremo tutte le altre sezioni del programma. E con Capitale della Cultura condividiamo anche altre progettualità, anche quelle le abbiamo appena annunciate, il progetto Novi Bioscope, un gemellaggio con il festival di Sarajevo che prevede che diversi ragazzi di Sarajevo verranno qua a Pesaro a girare un film sulla nostra città che poi proietteremo a conclusione del festival. Anche noi saremo protagonisti della Korean Week, questo grande evento con ospite della cultura coreana. Il Festival del Cine ha dedicato spesso attenzione al cinema dell'est e quest'anno recuperiamo una sezione dedicata al cinema coreano e anche uno sguardo al futuro perché Capitale della Cultura è anche coniugare la natura con la cultura, con la tecnologia e avremo una sezione in collaborazione con la Casa delle Tecnologie Emergenti dedicata al cinema immersivo, alla realtà virtuale. Grazie a tutti!